Nella frenetica quotidianità del nostro tempo, i cuori battono a un ritmo che esula dal nostro controllo. Ma a volte, essere padroni del proprio battito è tutto ciò che serve per renderci liberi. Ecco la nuova enduro veloce. Ogni volta che impugni l'acceleratore, ti senti in pieno controllo. Sei tu a determinare il percorso che vuoi seguire, ed il tuo passo. Enduro veloce, detta il ritmo della tua avventura.